Musica Buongiorno bentovati, lunedì 19 agosto 2019, primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Martino 6 che come di consueto si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con l'edizione di Pescara del centro, si parla di un fatto di cronaca avvenuto nel Terramano ma al confine con la provincia di Pescara siamo a Silvi, falciato in mare, indagato pescatore con la sua barca avrebbe investito ed ucciso un 63enne che nuotava a largo. E poi il calcio di Coppa Italia, amaro per il Pescara che ieri sera al Castellani di Empoli è uscito sconfitto per 2-1 ai supplementari, un KO tra i rimpianti, non basta il gol in apertura di Tuminello, l'Empoli di Bucchi rimonta e vince ai supplementari. Vediamo le altre notizie, Pescara schianto in moto in pieno centro l'altra notte, ragazza grave in ospedale e poi Pianella e Cepagatti in lutto per la scomparsa di un commerciante 75enne. A Montesilvano tutti in mare nel ricordo dei due fratellini annegati la settimana scorsa alla Marina di Tollo. Vediamo anche qualche titolo di respiro nazionale, economia, l'aumento dell'IVA ci costerà 454 euro in più. E poi la politica nazionale, vedete in alto i vertici del Movimento 5 Stelle, dicono Salvini, non è affidabile. Vediamo la prima pagina di Chieti, Lanciano Vasto, sempre del quotidiano Il Centro, accordo per salvare la villa all'asta. Ateneo di Chieti, l'ex direttore generale Napoleone, condannato, pronto a pagare un milione per tenere la casa. E poi la festa ieri sera a Brecciarola di Chieti con l'abbraccio al campione di ciclismo Giulio Ciccone, che è stato anche maglia gialla nell'ultimo Tour de France. E poi Ortona, costone franato sotto il palazzo al Via ai Lavori, Lanciano, parcheggio abbandonato, l'opera riparte. Poi ci spostiamo a Vasto, Porto, cresce il traffico di navi e il traffico merci. Vediamo anche le notizie che riguardano lo sport e il calcio. Festa Vastese, Chieti si arrende in arrivo l'attaccante Esposito, Vastese che si impone per 1-0 nella gara di Coppa Italia. Poi vedremo il servizio, calcio di eccellenza, Natalini, la carica del capitano, Lanciano, grandi ambizioni. Vediamo la prima pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, ritroviamo il titolo della morte in mare del 63enne che sarebbe stato investito da una barca. E poi la Coppa Italia di Serie C perché il Teramo, dopo aver vinto a Fano, sbanca anche Gubbio e si qualifica 2-1 per i ragazzi di Tedino. Vediamo il successo in casa della formazione eugubina. Teramo, piano asfalti, lavori slittano a settembre, Silvi, finti carabinieri truffano, un anziano e poi Pietra Camela, tre alpinisti soccorsi sul corno piccolo. Vediamo anche lo sport per quanto riguarda le formazioni del Teramano. Il Giulianova stecca la prima, eliminato dall'Avezzano che vince la gara dei Marsi. E poi il basket di Serie A2 maschile, Roseto, il coach esalta l'Attin, se farà giocate da NBA Safari, giocate da NBA, ha detto il coach della formazione rosetana. Siamo alla prima pagina di L'Aquila, Avezzano sul Mona del quotidiano Il Centro. Vedete il titolo di apertura, post-sisma, controlli su tutti i progetti. L'Aquila, il comune abolisce il sorteggio per le pratiche da verificare. E poi la vittoria in questo caso in primo piano dell'Avezzano in Coppa Italia che vince con il Giulianova. Vedete nella foto il saluto della squadra ai tifosi marsicani a fine partita. Ancora Avezzano, partono i lavori in piazza, cinque alberi a rischio sul Mona con 350 artisti. L'estate peligna fa il pienone. Poi a Navelli, il palio degli asini, alla Contrada, le spiagge che si aggiudica la manifestazione di quest'anno. Vediamo anche il calcio di promozione. All'Aquila servono rinforzi, spunta l'idea di Benedetto. E poi rugby di serie B, il Paganica sogna il salto in A per i 50 anni dalla fondazione. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. La morte in mare nei filmati. Torniamo alla tragedia accaduta a largo di Silvi, ucciso dal motopesca. Forse le telecamere della Torre del Cerrano hanno ripreso tutto. Questa mattina l'autopsia. C'è un indagato. Intanto Silvi piange. Un personaggio storico. E poi premio Silone a Jacomini, portavoce dell'Unicef, il riconoscimento a Pescina. Vediamo altre notizie. Schianto in moto, ragazza gravissima a Pescara. L'incidente l'altra notte, nella notte tra sabato e domenica, in pieno centro. E poi fotografi denunciati. Polemica sull'orso per quanto avvenuto nei giorni scorsi. Vediamo poi in basso. Giulianova tentano di rubare i germani reali. E poi andiamo in alto, invece, per parlare anche di sport. Il Pescara Empoli cede solo i supplementari. Abbiamo visto prima, poi vedremo anche le interviste. L'intervista al tecnico del Pescara Zauri, al termine della sfortunata gara, giocata dai biancazzurri al Castellani. Poi basket, Nicola Giordano, medaglia di bronzo con l'Under 16. Rugby, il terramano Marco Riccioni in azzurro. In alto, l'Aquila, richieste da tutta Italia per le vacanze sull'albero. E poi Giulianova, il perito pagato dal comune 13 anni dopo. Dopo la consulenza, Teramo, grande fratello in centro contro Variter e Vandali. Dunque nuove telecamere nel centro di Teramo. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Siamo l'edicola nazionale. Iniziamo, come di consueto, con il Corriere della Sera. Ovviamente la situazione politica nel nostro paese in primo piano. Dopo la crisi di governo di Ferragosto, si torna in aula. Il Movimento 5 Stelle chiude con Salvini. Glillo iruisce i capi. Matteo, inaffidabile, vuole un contratto con il PD. E poi, Opera Arms, vorrei parlare al ministro Richard Gere e i migranti. Ricorderete l'intervento proprio del famoso attore in soccorso dei migranti. E poi, Calciatori e Cervelli in fuga, Balotelli, ritorno con sconto, perché Balotelli torna a giocare in Italia dopo l'esperienza in Francia. Tasse dimezzate grazie al decreto crescita, va al Brescia, ne ho promosso in Serie B. E poi la tragedia accaduta in Cilento, era in un burrone, il francese Simon trovato morto a nove giorni dall'allarme. E poi vedete in basso, se la classe media non va in vacanza, estate 2019, flessioni dal Veneto alla Sardegna, tengono lusso e basso costo. E Milano, vediamo anche Repubblica, Grillo, licenzia Salvini, dal fondatore I Vertici del 5 Stelle, alleato sleale, non più credibile, ora aspetta un segnale da Zingaretti. E poi, vedete, la protesta di Hong Kong, questa selva di ombrelli aperti, simbolo dei manifestanti, ieri in piazza 1.700.000 persone nella Hong Kong che non si arrende. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, Salvini si incolla alla poltrone, il Movimento 5 Stelle con Grillo gli dà l'addio, il titolo del Fatto Quotidiano. Vediamo anche Libero, parla Salvini, meglio finire in galera che governati dal PD, questo è il titolo di apertura. Il leader leghista dice di essere pronto a tutto per non far nascere l'esecutivo giallo-rosso, ma Grillo convoca i suoi e insiste, meglio Renzi. Vediamo anche il messaggero nazionale, ancora la politica in primo piano, Movimento 5 Stelle scarica Salvini, apre al PD, vertice con Grillo. Matteo è un affidabile, lui rilancia, dialoghiamo, poi ci ripensa, pronti a lasciare. E poi, non siamo bagnini, lo sfregio dei vigili a Fontana di Trevi, protesta degli agenti per i nuovi divieti antincivili, faticoso controllare i turisti, meglio le barriere, questo è il titolo che riguarda Roma. E poi, Oper Arms, la Spagna offre un porto, ma la mossa blocca, sequestro e sbarco dei migranti. Vediamo anche il mattino, Movimento 5 Stelle, Grillo detta la svolta, Dio Salvini e apre al PD. E poi, il caso Oper Arms, la fuga in mare dei disperati, cinque migranti si tuffano in acqua, la Spagna offre un porto. Poi, la tragedia nel Cilento, con l'escursionista francese Simone Gauthier, è trovato senza vita a nove giorni dall'allarme. Il buco delle sei ore trascorse senza localizzare. Ora, si sta cercando di capire cosa è accaduto. Siamo al sole 24 ore, debito pubblico in due anni, tassa da 5 miliardi di interessi in più per il nostro Paese. Poi, negozi, cedolare anche ai rinnovi. E poi, il fondo per gli Atenei torna ai livelli del 2010, premiato chi migliora. Vediamo la stampa di Torino, Grillini PD, prove di governo, ma Salvini non si arrende. Vertice da Grillo, pugnalati dalla Lega, la replica, voi correnzi, boschi, pronti a scendere in piazza. E poi vedete Hong Kong, una marea umana, sfida Xi con la non violenza, la protesta contro la Cina in questo caso. Il tempo, segreti i redditi di Premier Ministri, il governo Conte occupato a litigare sui social e TV non ha pubblicato i propri guadagni. E poi, vedete, Salvini vuole rientrare, ma Di Maio mura la porta. Vediamo anche il secolo.it, l'opposizione si chiama Hong, l'operazione Open Arms testimonia ancora una volta il tentativo di organizzare l'invasione dell'Italia, scrive il secolo.it. La verità, Renzi vuole fare il commissario dell'Unione Europea, scrive la verità, dopo aver attaccato chi nel partito parlava di intesa con i pentastellati, si è intestato il dialogo e ha iniziato a dare interviste all'estero. E poi, Casini, D'Alema, Letta, Prodi, i volti dell'inciucio, scrive sempre il quotidiano La Verità. E poi, Farsa Open Arms rifiuta di andare. In Spagna, il secolo XIX, il quotidiano di Genova, più vicino all'Alleanza Movimento 5 Stelle PD, Salvini apre a Conte. Lo ascolterò, vertice in Toscana a casa di Grillo. La Lega dice Grillo, non è più credibile, il carroccio no a Inciuci. Si voti. E poi, vedete, crescono in Liguria le spiagge, amiche dei bambini, ragazzi, si tuffano nel Levante Genovese. In Liguria le bandiere verdi sono salite a 4. E questo era l'ultimo quotidiano per quanto concerne l'edicola nazionale. Torniamo al centro, torniamo alle vicende di casa nostra, torniamo a parlare di Abruzzo. In questo caso, il carrello della spesa, perché stanno per terminare le vacanze. L'aumento dell'IVA al 25% ci costerà 454 euro in più. Se il Governo non approva il bilancio dal 1 gennaio, scattano gli adeguamenti. Altro consumo, salgono i prezzi di alimentari, bollette energetiche e carburante. Vediamo poi più in basso, fondi europei non impegnati, l'allarme di confartigianato. L'Abruzzo deve spendere ancora 30 milioni. Parliamo anche di scuole, sempre relativamente alla nostra regione. Scuole, fondi per tecnica e innovazione. Firmato il decreto per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento. In regione sono 18 gli istituti interessati. E poi intanto l'ANIEF dice docenti, stipendi bassi e boom di precari. Intanto sono 1982 i migranti assistiti in regione. Il dato del Ministero dell'Interno è in costante flessione. Nel 2017 le persone accolte sono state 4.283. E poi prevenzione del tumore al seno, race for the cure, tappa in Abruzzo. La manifestazione della Comen si terrà a Pescara dal 20 al 22 settembre prossimi. Siamo alle cronache dalle province. Partiamo da Pescara. La cronaca incidente nella notte tra sabato e domenica. Schianto con la moto grave una ragazza. Impatto tra una Kawasaki e un camion della società attiva. All'incrocio con Via Tasso in ospedale una coppia di ventenni. Intanto ieri vigili in azione sulla riviera. Auto rimosse davanti ai garagi. Multa e raffica in tutta la città. Ed è stata ripristinata la passerella per i disabili. Ultimato l'intervento promosso dal Comune per l'accesso alla spiaggia libera di Fosso. Valle Lunga. Parliamo anche dell'operazione anti-accattonaggio di sabato scorso da parte dell'amministrazione comunale e dei vigili urbani. Ma i disperati sono tornati nelle loro case. Questo è il titolo del centro. I ruderi dell'ex ENAIP fatti sgomberare dal Comune sono di nuovo occupati abusivamente. Altri bivacchi alla Madonnina. E poi ancora furti nel parcheggio sulla Tiburtina. Le guardie dello Sciani inseguono il ladro che aveva sfondato i finestrini delle auto. Questa è casa loro. Lotta alla criminalità. Anziani raggirati. Scatta l'allarme nel Pescarese. Segnalate i tentativi di truffa. Il comandante dei carabinieri, il coronello Marco Riscaldati, suggerisce di rivolgersi sempre alle forze dell'ordine. Le telefonate degli impostori in cerca di vittime sono molte. Per chi indaga è importante saperlo. E poi mai fare entrare sconosciuti in casa. Siamo in provincia di Pescara. Dolore e lacrime a Cepagatti e Pianella. Muore commerciante, due paesi in lutto. Addio a Fernando Pagannone, 75 anni. Era il titolare dei negozi di abbigliamento creati insieme ai fratelli. Oggi si terranno i funerali a San Giovanni Teatino. Spese per la grandinata. Oggi se ne parla in consiglio comunale. Moscufo, miss anni 70. La fascia d'Amelia, spoltore Nozze d'Oro. Ospiti che arrivano da Singapore. E poi, papà ti salvo io, la Società Nazionale di Salvamento a Montesilvano ha dato vita a questa manifestazione. Questa volta il ricordo in mare, il ricordo dei fratellini annegati durante l'affollata manifestazione sulla sicurezza. Il saluto dei bevi bagnini. Non vi dimenticheremo mai. Ricorderete la tragedia proprio dello scorso fine settimana, il giorno di Ferragosto, con i due bambini cinesi di 11 e 14 anni annegati nel tratto di mare antistante la marina di Tollo. Siamo alla pagina di Chieti, del quotidiano Il Centro. Università, lo scontro con l'ex direttore generale. Questo è il titolo che vediamo in prima pagina. Napoleone, un milione per salvare la villa all'asta. L'ex direttore generale, condannato in Cassazione, propone un accordo all'Ateneo, sì al risarcimento per evitare la vendita giudiziaria della casa di San Martino. E poi, numero chiuso, test d'accesso al via da oggi, i corsi gratuiti per prepararsi. E poi in basso, mega ospedali Chieti-Pescara, stop a Masci, di primio il presidente del Consiglio Aceto contro il sindaco della città adriatica. Sì all'integrazione, proseguono dunque le polemiche sul DEA di secondo livello. Siamo nel provincia di Chieti, siamo a Vasto in questo caso, estate record al porto, traffico ancora in crescita, sabbia, fertilizzanti e paleoliche. 30.000 tonnellate di merci in due giorni, oggi è in programma l'attracco di tre navi, altri tre mercantini restano in coda. Vediamo poi di spalla altri titoli. Torino di Sangro, giovane intossicato dal diserbante. E poi San Salvo, sorpassa lo scooter, provoca un incidente e fugge. E poi Gian Giacomo pronto ad entrare nel CSM, il presidente del tribunale in pole position per sostituire Criscuoli, ma lasciare Vasto, dice il magistrato. Mi dispiacerebbe. Siamo alla pagina di Teramo e della provincia di Teramo, in particolare siamo a Silvi, la tragedia in mare, falciato dall'elica, indagato un pescatore, il proprietario della piccola barca che avrebbe investito l'ex marittimo, mentre nuotava a largo. Oggi ci sarà l'autopsia albadriatica. Turista denuncia, in spiaggia grossi cani lasciati liberi e Silvi. Ancora cronaca, finti carabinieri truffano un anziano, si spacciano per militari in borghese che stanno cercando dei ladri e gli portano via 800 euro. Viabilità, Teramo vibrata, strada in abbandono. Sul primo lotto, nessuna manutenzione dal 2004. La provincia cerca soldi, per ora può solo fare gli sfalci e togliere i rifiuti. Siamo a Pietracamela, tre alpinisti bloccati sul corno piccolo e soccorsi nella notte. E poi Martinsicuro, Nuova Rosa, trionfa nella regata storica che si è tenuta proprio a Martinsicuro. Siamo alla pagina dell'Aquila, del quotidiano Il Centro. La ricostruzione è difficile, le nuove regole e controlli su tutti i contratti post-sisma. Questo è il titolo di apertura. Il Comune approva infatti la novità che abolisce il sorteggio per le pratiche destinatarie dei contributi pubblici in città e nelle frazioni. definito lo schema da utilizzare la stipula del documento di appalto tra il privato e l'impresa, pronte le linee guida che definiscono il sistema di verifica. Siamo alla cronaca, partiamo da Campo Tosto, motociclista tra mano ferito nell'incidente a Ortolano. E poi migliora il giovane ciclista investito, pizzanti verso il recupero in attesa dell'esito di alcuni esami. Proseguiamo, siamo in provincia dell'Aquila, le tante manifestazioni che si sono svolte negli ultimi giorni. Arturo batte tutti, al fotofinisce vince il palio degli asini, Navelli, a corso con i colori della contrada alle spiagge, l'evento nel cartellone della sagra dei ceci e dello zafferano che si tiene proprio a Navelli che è giunta alla 43esima edizione. E poi concerti a pagamento, una scelta che divide l'Aquila verso la perdonanza, si parla proprio di concerti, concerti a pagamento che non trovano tutti d'accordo. Villa Lago, turismo, arriva il virtual tour, servirà a far conoscere Villa Lago, Cocullo, Anversa degli Abruzzi e Bugnara, Valle del Sagittario, promozione del territorio in questo caso. E a Barrea, droga, 38enne ai domiciliari, trovato in possesso di cocaina e hashish, ha cercato di liberarsi delle dosi. Siamo arrivati alle pagine dello sport e allora dobbiamo andare, prima di parlare di sport, lo faremo in maniera ampia e dettagliata nella seconda parte, parleremo della sconfitta del Pescara in Coppa Italia a Empoli, parleremo anche di Coppa Italia di Serie C con la vittoria del Teramo a Gubbio, e poi vedremo i servizi sulle due partite di Coppa Italia di Serie D, tutto questo nella seconda parte di mattino 6. Ora siamo invece alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero, partiamo dalla pagina di Pescara, mercato etnico vuoto, parte la revoca degli stagli assegnati, l'inattività continuata, monitorata per un mese di seguito dal Comune, autorizza per legge la chiusura della struttura, e poi moto contro un camion di attiva, ragazza gravissima dopo lo schianto, e poi ripristinato l'accesso per i disabili alla spiaggia libera di Fosso, Valle Lunga, vedete nella foto gli assessori Dinisio e Paoni Saccone, e poi ancora a Montesilvano, in questo caso i cani bagnino, eroi dei bambini, spoltore ensemble, premio nel nome di Arnoldo Foa. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila, sempre dal quotidiano il Messaggero, Amiternum attira molti turisti, ma alle 14 costretto a chiudere i custodi del Mikbat sono rimasti in 4 e saranno 3 dal prossimo anno, perciò apertura solo al mattino. Tanti i visitatori nelle due aree archeologiche, nel weekend di Ferragosto, con il picco nel giorno del 16 agosto. Andiamo più in basso, boom di richieste per la casa sull'albero, inaugurata lo scorso 6 agosto a Goriano Valle, all'interno della dimora storica, casa di Gioacchino. E poi Celestini sulle Rocche, i solisti, con Bennato a Rocca di Mezzo, e nell'Aquilano tante le iniziative, le manifestazioni, in questi ultimi dieci giorni di agosto. Intanto all'Aquila, circolo tennis, inaugurato lo stadio del tennis, con gli internazionali che stanno vedendo una più che buona partecipazione di pubblico. Siamo alle tradizioni, come sul centro, anche sul Messaggero, ritroviamo la notizia della manifestazione del Palio degli Asini, che si è tenuta a Navelli, in provincia dell'Aquila, con la vittoria della Contrada. Le spiagge, vedete nella foto, i vincitori e la loro soddisfazione. Siamo alla pagina della Marsica e dell'area Peligna, piazza Risorgimento, il Verde, dov'è? Il segretario del Partito Democratico, Cegli, riapre la polemica. Siamo ad Avezzano. Sul taglio indiscriminato e controcorrente, dopo l'intervento dell'architetto Maccallini, si torna a parlare della parte centrale cittadina, non dimenticando, piazza del Mercato. E poi la protesta live dice chi disturba l'orso marsicano, ricorderete la vicenda dei fotografi che erano stati fermati dai carabinieri forestali. Poi Togliacozzo, noto imprenditore investito sulle strisce in pieno centro. Andiamo più in basso, a Sulmona i gonfiabili della fiera oscurano la statua di Ovidio, un pugno e una carezza, le ultime due manifestazioni nella zona storica. Spostiamoci nell'Alto Sangro, a Castel di Sangro, la cronaca Spaccio in Manette, un 38enne. Lasciamo anche la pagina di Avezzano Sulmona, sempre dell'inserto abruzzo del messaggero. Siamo alla pagina di Chieti, parliamo di politica, di Primio e Febbo senza pace, non lo scontro è sulla sanità, dopo il braccio di ferro sulla crisi in comune, la lite sul dia di secondo livello, il sindaco riafferma il ruolo e le richieste avanzate all'assessore Verì per tutta la ASL. E poi Ambiente, l'iniziativa Maiettato, Piana delle Mele, è stata ripulita dai rifiuti, dai volontari. Siamo poi a Vasto, Castaldi, 8 milioni per la stazione di Vasto. Il senatore del Movimento 5 Stelle annuncia lavori di restyling entro due anni con il programma Easy Station e poi Lanciano, da Lanciano a Fossa Cesia, con le biciclette sui bus. Si parla di mobilità alternativa che riguarda l'area frentana in questo caso. Torniamo alla tragedia della Marina di Tollo del giorno di Ferragosto, l'annegamento di due bambini di 11 e 14 anni. Quella tragedia si doveva evitare in spiaggia i tanti interrogativi sulla morte dei due fratellini cinesi. Procura al lavoro, il rebus sulla sicurezza. Sicurezza. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Messaggero. La cronaca ci porta questa volta a Silvi per un'altra tragedia. Straziato dalla barca da pesca, decisivi i filmati delle spycam. Gli occhi elettronici di Torre del Cerrano potrebbero aver ripreso l'incidente in mare. Oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Mario Deustacchio. C'è già un indagato per omicidio colposo. Proseguono comunque le indagini per ricostruire quello che è accaduto e per chiarire la dinamica di questo drammatico incidente in mare. Siamo a Giulianova, 13 anni per pagare il perito del comune. L'amministrazione municipale ha assunto l'impegno di spesa dopo un'incredibile attesa, attesa durata. In questo caso 13 anni l'impegno di spesa e si parla di una incredibile vicenda burocratica. Cermignano picchia gli agenti alla Sagra, arrestato. Poi Martinsicuro, gli stranieri ora se ne vanno. Popolazione a quota 17 mila a Martinsicuro. Torniamo, anzi ci spostiamo a Teramo in questo caso. Graffiti e vandalismi arrivano, 52 telecamere. L'assessore Valdo di Buonaventura dice con i responsabili del degrado pronti ad usare il pugno di ferro. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport del quotidiano in messaggero. Allora prima di lasciarci per qualche secondo possiamo aprire la pagina sportiva andando a vedere i titoli dei tre quotidiani nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, la coppia dei sogni, Inter, Sanchez con Lukaku, si parla di mercato. Un altro affare con il Manchester United, il cileno può arrivare in prestito. Gli inglesi pagheranno metà ingaggio. Prenotato il numero 7, Icardi, ultimatum del Napoli. C'è pure la proposta del Monaco. Serie A come siamo messi, ancora tanta Juve, Conte deve rifinire ai Milan in ritardo. Milan è stato bloccato l'altro ieri allo stadio di Cesena, a Rologel Stadium di Cesena, sullo 0-0 dalla formazione romagnola neopromossa in Serie C. Tornando alla Juventus, l'enigma bianconero di Bala studia da 9, segna ma resta in bilico. Signora, sei sicura che divorziare sia giusto? Non tutti sono d'accordo sull'eventuale cessione di Bala. E poi Balotelli con lo sconto dei cervelloni. Ieri l'annuncio del ritorno in Italia dopo tre anni. Mario Balotelli dice finalmente sono a casa. Cellino beneficerà del decreto crescita pensato per il rientro dei cervelli. in fuga, ma a proposito di Balotelli e il Brescia, Brescia che esce dalla Coppa Italia, battuto dal Perugia, eliminato il Verona dalla Cremonese, Fiorentina ok con il Monza, il Bologna ne fa tre. Vediamo il Corriere dello Sport, Icardi ultimatum, Ancelotti a fretta, De Laurentiis presidente del Napoli, avvisa Maurito e la Juventus, Conte intanto aspetta Sanchez in prestito e poi anche l'Oriente Roma, tre colpi per Dzeko, due difensori ed un attaccante. E poi la Coppa Italia, Fiorentina che Vlajuvic, Chiesace, Cagliari subito festa, ma in dieci uomini battono il Chievo per 2 a 1. Vediamo anche tutto Sport, Sanchez sì di Balanò, l'Inter prende il Cileno così tramonta lo scambio con Icardi. E poi vedete Juve a chi dai questa maglia, la maglia numero 9 da assegnare. Poi vediamo altre notizie di calcio, Giovanni Galli, Mazzarri l'uomo in più del Torino, dice l'ex portiere, poi Balotelli finalmente gioco nel mia Brescia, euforico il presidente Cellino e poi Bologna, Ketris, Alpisa, vittoria dedicata al tecnico Sinisa, Mijajovic. Allora possiamo fermarci per una breve pausa, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, siamo allo Sport regionale, partiamo dal centro, dalla prima pagina dello Sport, con i titoli degli argomenti che poi andremo a vedere insieme all'interno delle pagine di Sport. La Coppa Italia Team, il Pescara cade, supplementari fuori dalla Coppa Empoli, sabato debutto a Salerno contro i Granata, strapazzati a Lecce e poi vedete il Teramo brilla per un tempo e vince a Gubbio. Andiamo avanti, c'è questa pagina dedicata al mercato della Serie A, Balotelli chiude il cerchio, finalmente torno nella mia città. E poi il mercato, l'Inter impugno l'intesa per Sanchez e Biraghi, Biraghi ex Pescara. E a proposito di Coppa, a proposito di Pescara, un altro ex Pescara è stato protagonista ieri, si tratta di Lapadura che ha trascinato il Lecce alla vittoria per 4-0 con la Salernitana. Salernitana prossimo avversario del Pescara nel campionato di Serie B che prenderà il via sabato prossimo, si inizierà a dire il vero venerdì con l'anticipo Pisa-Benevento. E siamo alla sconfitta dei Biancazzurri nel terzo turno di Coppa Italia. Tuminello non basta, Pescara capò, festa Empoli, Biancazzurri eliminati ai tempi supplementari dopo i gol di Dezzi e Morea. Allora possiamo andare a vedere le immagini proprio della partita giocata al Castellani di Empoli, andare a vedere i gol di questa partita che comunque ha visto un Pescara sicuramente propositivo, un Pescara in crescita rispetto alla gara giocata allo stadio adriatico con il Mandova, Pescara in maglia gialla, invece l'Empoli in maglia blu. Vedete l'errore della difesa empolese ed il gol di Tuminello che porta in vantaggio la formazione Biancazzurra, ma c'è la risposta dell'Empoli che come detto ha prima pareggiato e poi vinto ai supplementari il gol in questo caso di Dezzi al 26esimo che riporta il match in parità, la rete di Tuminello al quarto e poi siamo ai supplementari, tempi supplementari con il gol realizzato da Moreo che aveva segnato al Pescara anche quando era giocatore del Palermo e dunque Empoli che batte il Pescara ai supplementari per 2-1. Abbiamo visto le reti di questa partita. Prima di andare ad ascoltare Zauri negli spogliatoi leggiamo ancora qualche titolo. Bruno tenuto testa ad una corazzata, Fiorillo condannati da un solo episodio. Andiamo a vedere le pagelle dei Biancazzurri, tutte positive tranne qualche eccezione. Fiorillo 6,5, Balzano 6, Bettella 6,5, Scognamiglio 6, Vittorini 6, Ventola 6, Bruno 6,5, Busellato 5,5, Memusciai 6, Brunori 6, Tuminello 5,5, Galano 5,5, Cisco 5,5. Più di qualche insufficienza seppur lieve per il Pescara. Vediamo questa la pagina dedicata al mercato proprio del Pescara, Castanos Pescara, l'intesi ad un passo, il Chievo su Segre che è seguito anche Dai e Biancazzurri, Salernitana, Idea, Dermacu, il giocatore del Parma lo scorso anno a Cosenza. Ma noi torniamo alla gara giocata ieri sera al Castellani di Empoli, andiamo negli spogliatoi a sentire le dichiarazioni in un poco più di un minuto del tecnico della formazione adriatica, Luciano Zauri. Chiaramente sapevamo l'arma dell'Empoli che sul calci pensaria degli ottimi tiratori, chiaramente sfrutta questa zona nel più pallo che è stato purtroppo per noi. Abbiamo fatto un gran gol, più merito dell'avversario che del merito nostro. In generale dispiace, dispiace perché chiaramente ce la siamo giocata, è quello che volevamo, e alla fine abbiamo fatto direi abbastanza bene nel complesso, nel primo tempo un pochettino troppo timorosi, un po' troppo bassi, non è quello che vogliamo. È chiaro che abbiamo tempo per migliorare alcuni aspetti, alcuni atteggiamenti dei ragazzi, proprio dove vadano assolutamente elogiati, hanno fatto una grande ripresa, atteggiamento è quello che il pescar deve avere assolutamente su qualsiasi campo. È chiaro che nel primo tempo un pochettino più di coraggio, ha fatto sì che prendessimo anche campo, credo che per lunghi tratti nel secondo tempo abbiamo avuto il dominio del possesso del gioco, quindi creando anche delle situazioni. Di fronte eravamo comunque l'Empoli, che è una squadra, come abbiamo detto già in precedenza, è una squadra fatta per fare qualcos'altro, per cui noi siamo, non dico contenti, perché quando si perde non si può essere contenti, io sono il primo a non esserlo, però comunque ho visto dei progressi, i ragazzi hanno fatto quello che devono fare. Pescara dunque in progresso, anche secondo Luciano Zauri di fronte, c'era quella che è definita la corazzata del prossimo campionato di Serie B. Vediamo come il messaggero titola la battuta d'arresto dei Biancazzurri, Pescara Koma con onore, l'Empoli la corazzata del campionato vince solo ai supplementari, addio Coppa Italia, segna Tuminello che però si fa espellere, pensare che i toscani erano rimasti in dieci, perché al decimo minuto del primo supplementare era stato espulso Maietta per doppia ammunizione, poi Tuminello al terzo del secondo supplementare è stato espulso dal direttore di gara per gioco scorretto. Da qui l'insufficienza a Tuminello, nonostante il gol segnato al Castellani, mercato di Gaudio escluso dal Verona, il Delfino ora ci proverà, l'obiettivo resta sempre Mazzitelli dal Sassuolo, ma il Lecce si è fatto avanti. Vediamo il Teramo, siamo alla pagina della Serie C, la Coppa Italia della Serie C, il Teramo di Coppa piega anche il Gubbio, finisce 2-1 sul campo degli Umbri che hanno prestato il loro terreno di gioco, Mungo debutta da titolare segna, poi Minelli raddoppia nel finale, espulso Piacentini. Andiamo a vedere anche il centro, sulla vittoria di Gubbio, Teramo l'1-2 di Mungo e Minelli, vale la qualificazione, Tedino bravi, atteggiamento giusto. E allora anche in questo caso, andiamo a vedere le immagini della gara giocata allo stadio di Gubbio con il Teramo, padrone di casa, ma indisponibile il Bonolis, la partita è stata giocata a campi invertiti con il Teramo, che però secondo calendario era padrone di casa, in avanti la formazione bianco-rossa, c'è il gol di Mungo in apertura, Teramo in maglia bianca, ovviamente vedete l'esultanza dei bianco-rossi con il gol di Mungo, poi al ventunesimo arriva il raddoppio della formazione di Tedino, con l'esultanza del giocatore andato in rete, poi nella ripresa c'è la reazione della formazione Umbra, che trova il gol del 2-1 con Cesaretti, il gol che non basta per trovare il pareggio, perché le reti di Mungo e Minelli hanno permesso al Teramo di battere il Gubbio per 2-1, e di ovviamente superare il turno di Coppa Italia. Vediamo anche in questo caso le pagelle per quanto riguarda i giocatori del Teramo, Tomei 6,5, Cancellotti 5,5, Cristini 6, Piacentini 6, Tentardini 6, Santoro 6, Arrigoni 6,5, LASIC 5,5, Mungo 7, Cianci 6, Minelli 6,5, Infantino 5, Ilari 5,5, Di Matteo 6, Viero 6. Lasciamo la Coppa Italia di Serie C e apriamo il capitolo relativo alla Coppa Italia di Serie D, ieri due sfide, due derby abruzzesi, il primo giocato allo stadio dei Marsi di Avezzano, Avezzano bello di notte, Giulianova eliminato, 2-0 il risultato in favore dei Marsi Cani, i biancoverdi brillano, una prima uscita ufficiale, brindano con Franchi e Gaeta, domenica un altro derby, questa volta in trasferta, sul campo del notaresco, si è giocata questa partita di fronte ad una buona cornice di pubblico, Mecomonaco in ansia per l'infortunio a Franchi, tra i giallorosi il tecnico Pascucci non parla, il presidente Bartolini promette altri rinforzi, e allora noi andiamo a vedere il servizio sul derby giocato al Dei Marsi, servizio curato per noi da Andrea Costantini. Nel turno preliminare di Coppa Italia, Avezzano e Giulianova danno vita ad un match godibile, al termine del quale sono i Marsi Cani di Mecomonaco a guadagnare il passaggio del turno, con un meritato 2-0. Così sarà l'Avezzano domenica prossima a sfidare, sempre per la Coppa, il notaresco di Bagnoni. Le due squadre si presentano alla prima gara ufficiale della stagione, rinnovate nell'organico e con un assetto speculare, 4-3 per entrambe, tra i marsicani c'è l'ex Teramo Gaeta, al centro dell'attacco, sostenuto da Cancelli e Franchi, tra i giallorossi Out del Grosso, infortunato, e Antonelli squalificato. Discreta presenza di pubblico per una partita da subito piacevole, per quanto giocata su un campo in brutte condizioni, e con un Avezzano che si fa preferire per una maggiore intensità e cattiveria. Al decimo Magri va vicino al gol, subito dopo il tecnico Giuliese Pascucci deve rinunciare al centrale Procida, al suo posto Cipriani, con Ferrini che scala al centro della difesa. Giulianova pericoloso con Suriano, Fanti non è perfetto, ma Fioretti è fermato in offside, chi però la combina grossa e bifulco al ventunesimo, Franchi sfonda e mette in mezzo un pallone agevole per l'estremo difensore che pasticcia e manda il pallone, oltre la riga di porta, per il vantaggio dell'Avezzano. La squadra di Meco Monaco continua a spingere, e al ventisesimo raddoppia con Marco Gaeta che prima si procura un calcio piazzato e poi lo trasforma indirizzando il pallone nell'angolo alla destra di bifulco, Avezzano 2, Giulianova 0. La difesa di Pascucci soffre tanto i corner, così alla mezz'ora Magri sfiora il 3 a 0. Barlafante prova a suonare la carica per i suoi, a solo e conclusione centrale al trentasettesimo. Due minuti dopo è tiro al bersaglio davanti a bifulco, ci provano Gaeta, Brunetti e Magri, ma stavolta il portiere Giuliesse se la cava e sventa il tris. Un altro spunto di Barlafante al quarantatresimo fa calare il sipario per un primo tempo, pimpante e con l'Avezzano meritatamente avanti. Pascucci corre ripari, dentro il 2003 Forcini al posto di Malandra è 4-2-3-1, ma è sempre Barlafante ad avere una marcia in più e Fanti sventa in corner. Risponde l'Avezzano, cancelli per Franchi, il quale sfiora il palo. Al tredicesimo Fioretti calcia di potenza da posizione difficile e centra la traversa, mentre dalla parte opposta l'ex matericese Franchi, il migliore in campo, non è freddo davanti a bifulco. Dopo il ventesimo i ritmi calano, la condizione non è ancora ottimale e tutto ciò avvantaggia l'Avezzano che tra una sostituzione e un'altra mantiene saldamente il doppio vantaggio fino al trebice fischio di Ursini di Pescara. L'Avezzano avanza il Giuranova, penalizzato dagli errori difensivi del primo tempo, abbandona subito una competizione che l'aveva vista protagonista la scorsa stagione con la semifinale raggiunta e persa di un soffio con Messina. E se al De Marsi ha fatto festa il team bianco-verde, ovvero l'Avezzano, dunque fattore campo rispettato, così è stato anche all'Aragona di Vasto dove la vastese ha battuto il Chieti di misura per 1-0 grazie al gol del grande ex Dosantos. Questo è il titolo del messaggero. Vediamo anche il centro, la vastese avanza e si regala esposito, i bianco-rossi superano di misura il Chieti, decide un colpo di testa dell'ex Dosantos e domani arriverà il sì del fantasista Molisano, tra l'altro ieri sera in tribuna. Allora andiamo a vedere come è finita questa partita, 1-0 ovviamente il risultato per la vastese, andiamo a vedere le immagini, le emozioni della gara giocata di fronte a quasi mille spettatori. Nell'antipasto della sfida che si giocherà nella prima giornata di campionato, la vastese supera di misura il Chieti, accedendo così al secondo turno di Coppa Italia in cui affronterà il Pineto. A regalare il successo agli aragonesi è stato l'atteso ex Dosantos, allo scadere del primo tempo. In un pomeriggio caldo si gioca all'Aragona di fronte a quasi mille spettatori, senza i tifosi teatini rimasti a casa per protesta contro le limitazioni imposte dagli organi di pubblica sicurezza. Sulle due panchine, Revival Labronico con Amelia e Grandoni che si ritrovano da avversari dopo essere stati compagni di squadra nel Livorno. Formazione in campo con il 3-5-2 in un avvio di gara all'insegna del massimo equilibrio e senza spunti di cronaca significativi. Al diciannovesimo il portiere ospite, Camerlengo tocca il pallone con le mani fuori dall'area causando una punizione da posizione invitante per Esposito che però calcia alto. Al ventiduesimo risposta ospite, insidiosa con Cambò che serve in area milizia che spara sopra la traversa. Dopo le due opportunità avute, Vastese e Chieti restano però molto guardinghe con i due portieri mai seriamente impegnati. I 22 in campo si danno un gran da fare ma Biancorossi e Neroverdi appaiono ancora lontani dalla migliore condizione con la gara che stenta a decollare anche per il gran caldo. Ci si aspetta qualcosa in più dalla formazione di casa e così ci pensa il grande ex del match Dos Santos allo scadere del primo tempo di testa a mettere alle spalle di Camerlengo sul perfetto cross di Pompei. Esplode l'esultanza della curva d'Avalos con la squadra di Marco Amelia che torna così negli spogliatoi sul vantaggio di misura. Nella ripresa al primo minuto cross di Pompei per Marianelli che mette a lato da buona posizione. Parte bene la squadra di Amelia alla ricerca del raddoppio. Il pressing bianco-rosso mette pressione ai Noroverdi che non riescono a proporsi pericolosamente in avanti. Il match resta però aperto ma anche con poche emozioni. Fra una girandola di sostituzioni si arriva così al 33esimo quando Traini in area Vastese controlla e mezza rovesciata mette la sfera sopra la traversa. Al 42esimo ci prova ancora il Chieti con Catalli su punizione ma Bardini attento e para. Spinge la ricerca del pari la squadra ospite al 96esimo e ancora Catalli a mettere a lato. Poi dopo nove minuti di recupero arriva il tribice fischio finale di Vogliacco di Bari accolto dal tripudio dei mille presenti. La Vastese fa festa ma il Chieti non esce ridimensionato dal match di Coppa Italia. E dunque saranno Avezzano e Vastese a giocare il secondo turno di Coppa Italia altri due derby la Vastese giocherà con il Pineto l'Avezzano invece se la vedrà con il Notaresco. Tornando alla gara dell'Aragona il 91esimo Amelia non si esalta soltanto una tappa di un percorso di crescita Grandoni il primo tempo non mi è dispiaciuto oggi ovviamente nel corso del nostro telegiornale vedremo rivedremo i servizi anche con le interviste del 91esimo lasciamo la Coppa Italia di Serie D vediamo altre notizie anzi non lasciamo la Coppa perché andiamo a vedere quello che si dice in casa delle due abruzzesi che entreranno nel secondo turno Pineto in crescita il direttore generale Gianmarino la strada è quella giusta segnali incoraggianti dal triangolare con Pescara e Vastese che era stato giocato il 14 agosto mercoledì test con il Montori 88 domenica l'esordio in casa come dicevamo notaresco D'Ercole promuove la squadra Mele verso la firma il direttore sportivo Rosso Blu buone indicazioni la squadra sarà pronta per il campionato l'ex Franca Villa D'Ercole aggregato al gruppo vediamo altre notizie ciclismo giovanissimi in gara ad Avezzano il primo settembre si svolgerà la prima edizione del Memorial di Donato e poi ciclismo femminile la Bastianelli vince anche in Svezia successo in volata alla post-nord Vargarda per la 32enne di Notaresco proseguiamo torniamo al calcio però in questo caso parliamo del Lanciano i frentani verso il debutto in Coppa Italia la fascia passa a Natalini io leader del Lanciano il difensore del nuovo capitano dei Rossoneri aumentano le responsabilità ma dice il giocatore sono pronto quest'anno il campionato sarà più difficile niente errori e intanto la squadra si presenterà la città mercoledì nel Salone Lanci vediamo anche le altre squadre di eccellenza Angizia Luco Albertazzi e Santi Rocco il Cupello prende Battista e Dinielli torniamo un attimo al messaggero per vedere anche in questo caso il titolo che riguarda il campionato regionale di eccellenza Acqua e Sapone ingaggia Matavu verissimo all'Alba Adriatica e Paterno invece cede il volley Ottaviani vede una siego che può essere protagonista parliamo della siego Ortona che parteciperà per la sesta stagione consecutiva al campionato maschile di serie A2 di volley vediamo anche l'altra pagina di sport con il basket Giordano Bronzo Under 16 Roseto festeggia a distanza il successo del suo giocatore ai campionati europei il play classe 2000 il capitano degli azzurrini l'anno scorso ha debuttato con gli Sharks anche in questo caso cambiamo argomento parliamo di rugby perché il terramano Riccioni è stato convocato in nazionale dunque nel Little Rugby Oscea di Rama le nomine show per i mondiali in Giappone e l'Abruzzo è in festa proprio per la convocazione del giocatore terramano Riccioni che dunque approda in azzurro e poi come ogni lunedì c'è anche la mezza pagina di sport che il messaggero dedica in questo caso al Wisp con la notturna Atriana che ha visto una grande partecipazione di atleti è un po' la perla del Corri Abruzzo Wisp e poi ancora a Podismo a Villalago la prima di Umberto D'Agostino boom di presenze alla Sgamberalata che si è disputata a Gamberale per quanto riguarda invece il calcio il calcio Wisp i fischietti abruzzesi sempre sul pezzo nel calcio estivo intanto giovedì prossimo giovedì 22 agosto verranno resi noti i calendari dell'over 40 del campionato provinciale di Pescara lasciamo le pagine dello sport del messaggero torniamo al centro per tornare a parlare di calcio in questo caso dell'Aquila calcio perché servono rinforzi e spunta l'idea di Benedetto su Matto Terriaca nel Mirino c'è l'ex San Nicolò in prova con il rosso-blu l'attaccante argentino Zicarelli scuola River Chieti hanno lasciato la squadra il difensore Carnicelli e l'esterno veneroso Zazzara è sempre più lontano si cerca una mezzala come alternativa a Morra e di Norcia salta il ritorno invece dell'ex capitano Steri a società Aquilana al lavoro per reperire nuovi sponsor arrivano risposte incoraggianti però dall'imprenditoria locale vediamo anche il calendario della Coppa Italia di promozione Amiternina torna in parte Bucchianico San Giovanni Teatino Casal Bordino Atletic Lanciano Fater Angelini Pescara Elicese Fontanelle Rosetana Fossacesia Virtus Ortona L'Aquila 1927 San Gregorio Miglianico Villa 2015 Montorio Viano Mutignano Real Atria Nuova Santigilese Mosciano Ortona Val di Sangro Piano della Lente Morodoro Pizzoli Passo Cordone Pucetta Celano Raiano Ovidiana Sulmona San Salvo Castellana Silvi Villa Musoni vediamo anche altre notizie che riguardano il calcio direttantistico abruzzese parliamo del Miano perché arrivano i fuoricota Santigilese cerca invece il nuovo bomber il Celano ha tesserato il baby portiere rossi prima categoria arrivano rinforzi a Tossicia proseguiamo lasciamo il calcio per parlare di ciclismo della grande festa che si è tenuta ieri sera a Chieti a Brecciarola di Chieti con l'Abruzzo che ha abbracciato e applaudito Ciccone bagno di folla selfie e autografi per il GECO d'Abruzzo presenti anche il commissario tecnico della nazionale italiana Cassani ed il presidente della Feder ciclismo di Rocco vedete nella foto quanta gente e ieri ha salutato Ciccone per questa grande festa Ciccone lo ricordiamo maglia gialla all'ultimo Tour de France parliamo anche di ciclismo all'Eurocofir svettano gli amici della Bici Junior bene anche la pedale teatera pedale sulmonese nel pomeriggio caratterizzato dal ricordo anche del grande Felice Gimondi scomparso nelle ultime ore andiamo ancora avanti dal ciclismo al basket parliamo di serie a due maschile ovviamente dei Roseto Sharks con le prime amichevoli il coach d'Arcangeli e Salta Latin sa fare giocate da NBA l'allenatore Biancazzurro dice ancora per lui è importante capire in fretta questa realtà questa mattina intanto verrà presentato il nuovo sponsor scusate mercoledì e giovedì a Roma ci saranno gli ultimi test prima del rientro in Abruzzo per la formazione rosetana che si appresta a giocare anche nella prossima stagione nel secondo campionato nazionale parliamo ancora di basket delle altre realtà abruzzesi Giulianova al lavoro anche in spiaggia palacastrum indisponibile ciocca team dall'età media più bassa punteremo sulla coesione dice il coach Giuliese e poi campionato di serie Cisilver Cicchini lascia vasto e va alla torre spess nuovo basket aquilano si rinforza con l'argentino torn vediamo ancora le altre abruzzesi in serie B la Teatechieti riprende riprenderà l'inseguimento alla serie A2 Gialloretto dice ci crediamo Adriatica Press Teramo inizia la preparazione con un roster quasi completamente rinnovato D'Angelo entra nello staff tecnico della formazione Teramana e il campi è invece impegnato su più fronti e pensa anche alla nascita di un nuovo club ancora andiamo avanti ancora il basket unibasket lanciano abbraccia colori rosso-neri e nuovo stemma questa sera all'annuncio ufficiale a vasto viene lanciato un appello ai tifosi abbonamenti da 100 a 25 euro 12 le gare in calendario e poi Magic Chieti a caccia di rinforzi avviati contatti con Capitanelli mercato ancora aperto e siamo al podismo siamo al podismo da leggiamo da pagina 46 la scarpinata farese che ha visto la vittoria di Giovannangelo di Cecco Alberico di Cecco battuto in volata la di Prinzio prima tra le donne record di presenze per la classica del podismo che si è svolta a Fara San Martino vediamo anche il calcio a 5 Acquessapone preparazione al via oggi parte la nuova stagione e poi tornando al podismo Corsa di Nemo vince Santoro quinto l'Aquilano l'Arcinese a Martinsicuro in 450 al via e poi il Pagani Caraghi vuole la Serie A per i suoi 50 anni il presidente Rotellini i ragazzi dice meriterebbero il salto di categoria bisogna però migliorare in trasferta e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi del lunedì il primo della settimana con Mattino 6 che tornerà come sempre domani alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi come sempre per averci seguito e vi ricordo per quanto concerne la nostra rete l'appuntamento informativo il prossimo di questa giornata alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti